Chi di voi si è trovato in una situazione in cui il cuore e la ragione non potevano coesistere. Naturalmente in una relazione, ami una persona alla foglia, ma sai che non è la persona giusta per te. Sai che non avrà mai numeri per fare un sport, però il cuore e la passione ti spingono a farlo. Riusciremo a unire queste due anima? Oggi vi vogliamo raccontare come il tango ci ha insegnato a connettere questi due ingredienti tanto a posto ma indispensabili nella nostra vita. Il cuore con tutte le emozioni e la mente il suo lato logico. Qual è il lato logico del tango? Quando siamo di fronte ai nostri allievi, alle prese della loro prima lezione, la prima cosa che spieghiamo loro è che il tango è simile a una conversazione dove i movimenti sarebbe la frase e la tecnica di questi movimenti è la grammatica. Questo sarebbe un aspetto razionale del tango, simile a un codice o un linguaggio. I vecchi ballerini del tango ci lasciano queste heredità che sono passi e in secuenziati, sì? Di qua si sviluppa il ballo. Te faccio vedere, per esempio, il passo basico, composto di automovimenti simile a una caminata dove c'è un incrocio e una chiusura a un lateral. Anche abbiamo il otto dove la donna disegna il segno dell'infinito sul pavimento, può essere avanti come indietro. E della mescola, del passo laterale e dell'otto, riusciamo a fare un codice di giro. Il tango è composto da queste serie di passi predeterminati, come se fosse una struttura di una frase, parola di un lessico. Tutto questo mi ricorda a quando andavamo a scuola, le prime lezioni di lingua, dove anche lì abbiamo imparato tante strutture e la regola che dopo ci hanno aiutato a sviluppare il nostro linguaggio. In il tango succede esattamente lo stesso. Dopo aver capito questa struttura, la comanda, inizia il momento della creatività, dove uno può inventare nuovi movimenti con questa secuenzi. Te facciamo vedere. Maestro? Maestro. Maestro? 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 In tutto questo, la mozione nel tango, dove interviene? Il tango, oltre al codice e alla struttura, è una mozione che si balla. Per bailare il bailo, per bailare il tango, assaporando l'essenza, prima di tutto che dobbiamo lasciarci trasportare per la musica. Ci lasciamo al volgere dall'abbraccio del nostro compagno per connecarsi e condividere una stessa emozione. Le regole, le emozioni si mischiano prima di incominciare a ballare. Esiste, per esempio, una regola, un codice nel tango, che si chiama mirata e cabeceo. Te lo faccio vedere, immaginate, pista di ballo, tavolini, sedia. Nel tango, il uomo comanda, quindi è lui che invita alla donna, capito? Quindi, il uomo cerca l'esguardo della ballerina, le fa un segno con la testa e subito se trova in la pista di ballo. Ma, come sempre, è solamente una ilusione questa che il uomo ha che comanda. Naturalmente. Perché, se la donna non è interessata in ballare con questo cavallero, quando vedi il risguardo, gira la testa per l'altro fianco e lui capisce che non è interessata in ballare con lui. Ma nel caso, anche se è l'affortunato, rimango il risguardo. E, subito dopo, i ballerini se trovano nella pista di ballo e arriva il momento più magico della serata. Il abbraccio. È il più importante contacto che deve rimanere per tutta la durata di un tango. In trambi sentiamo il corpo del altro, la mano, il torso, il battito del cuore. Sensa dire? Sensa dire? Sensa dire in una sola parola. Sì? Sensa dire in una sola parola. 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 che è un attenzione. Che ti trasporta, che ti fa vibrare il cuore, che ti arriva con le emocioni e le sensazioni e ti trasporta a altra realtà. Dove le cose più importanti sono, prima di tutto, rimanere con questo contatto, e con questo dialogo senza parola con il tuo compagno. Per questo possiamo dire che il tango anche ti permette fare un tipo speciale di meditazione, dove la mente si rilassa, uno si concentra in questo momento. E tutte le emozioni si rilassano e se lasciano andare. Questo è il tango argentino. È una emozione che tutti debiamo provare. Ma perché tutti dobbiamo imparare il tango argentino? Perché è un peccato continuare a scrivere, lettere e parola pensando solamente con la testa, quando possiamo connetere il cuore e la testa e fare una bella posizione insieme. Anche per interiorizzare tutti questi passi, i codici e per creare i propri. Per lasciarsi invadere delle emozioni, lasciarsi invadere del momento. Per questo tutti debiamo bailare. Grazie. 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 Grazie.